Dopo un periodo a dir poco nero per quanto concerne i risultati, infortuni e squalifiche, l'Avezzano si ritrova a fare conti con gli spettri nel turno casalingo contro il Cinzia Albalonga. La squadra di Scorsini deve infatti provare a fare il miracolo senza Dos Santos, Zanon, squalificato e Bittaglie, assenze pesantissime, mentre il trend del momento è negativo per le sconfitte consecutive. I marsicani cercano però di rialzare la testa e prima della gara salutano con tanto amore Fernando Colizza, scomparso proprio ieri, vera e propria bagniera della società. Quanto al match, gli ospiti si fanno vedere subito con una conclusione deviata da Coco, quindi l'Avezzano sfiora il gol del vantaggio grazie ad una bella azione nata sull'out mancino a firma di Pellecchia. Si se colpisce però male di testa e l'estremo laziale para. Il pericolo scampato sveglia il Cinzia Albalonga che si guadagna un calcio di rigore intorno alla mezz'ora grazie ad una percussione nata sulla fascia sinistra. L'atterramento in aria manda sul dischetto Kappai che spiazza Coco con una bella esecuzione e regala lo 0-1 agli ospiti. La reazione dell'Avezzano nella prima frazione non c'è e la ripresa vede partire comunque meglio la società di D'Antoni. Buono riesce a concludere di controbalzo verso la porta di Coco e colpisce una traversa clamorosa al quinto minuto. Dall'in poi però il Cinzia scende fisicamente e l'Avezzano si affida a una bella costruzione di Sissé per mandare Pellecchia davanti alla porta. La sua conclusione di Mancino è intercettata male dall'estremo Santilli e termina in rete per l'1-1. Per i Biancoverdi si spezza così la maledizione dei gol fatti e la squadra di Scorsini prova addirittura a portare a casa il bottino pieno ma lo stesso Santilli si rifà su Donatangelo e devia una bella punizione. Al triplice fischio finale dunque 1-1 un risultato che muove le due classifiche e lascia spazio a due continuazioni di stagione tutto sommato serene. Si è interrotta la catena negativa finalmente. Una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo? Non sono d'accordo. Una buona prestazione sono d'accordo. Una prestazione che ricercavo, una prestazione che avevo chiesto in settimane ai ragazzi è un momento di grandissima emergenza sotto tutti i punti di vista era un momento di emergenza sotto l'aspetto dei risultati ma soprattutto sotto l'aspetto delle assenze. Non si può giocare facilmente e soprattutto senza calciatori come Zanon, Dos Santos e Bittaglie per troppo tempo. È chiaro che esistono nel calcio momenti difficili. Noi oggi volevamo invertire la rotta in superemergenza. Ho costruito un sistema di gioco diverso, ho costruito un sistema di gioco ideale per giocatori che avevamo disponibili a disposizione e per questo faccio i complimenti ai ragazzi perché indipendentemente dal risultato il primo tempo avevo chiesto assoluta attenzione nel non far giocare una squadra fortissima come l'Alba Longa e così è stato perché è tolto la grande ingenuità che purtroppo spesso ci capita però l'Alba Longa non aveva fatto un tiro in porta. Il secondo tempo è chiaro che sotto per quell'episodio del calcio di rigore abbiamo deciso di alzare ancora di più i nostri esterni è chiaro che siamo diventati molto più incisivi ma mi era piaciuto l'atteggiamento del primo e meritavamo assolutissimamente un risultato positivo e questo risultato deve essere un punto di pertenza di un 2023 all'insegna dell'emergenza, all'insegna della difficoltà ma è figlia del calcio e quindi questo ci deve adesso rasserenare un attimino soprattutto nel recuperare giocatori importanti domenica rientrerà Zanon dopo tre giornate di squalifica speriamo di recuperare Bomberdo Santos è chiaro che con una autostima, con un risultato e con una prestazione positiva contro una grande squadra può solo aiutarci a lavorare meglio Insomma il peggio è passato dai Tutte le squadre hanno momenti di grande difficoltà l'allenatore nel momento di grande difficoltà deve essere bravo a provocare come ho provocato io alcune cose stimolare, aiutare, coccolare questi sono ingredienti che porto nel mio spogliatoio non era facile perché oggi contro una squadra che volava contro una squadra di grandissimi calciatori non era semplice fare un risultato positivo e soprattutto non era semplice dopo il calcio di rigore che ha messo tutti in salita quindi ancora doppi complimenti ai ragazzi No mister, solo per sottolineare tu lo dici da inizio stagione l'enorme equilibrio del girone sia guardando dietro che guardando davanti alla fine il Cinzia Albaronga è in zona playoff ma ancora una volta oggi si è visto insomma che avrebbe dovuto veramente sudare sette camicia per portare a casa un risultato migliore di quello odierno Ma io oggi ho rivisto quelle caratteristiche che hanno fatto grande l'avezzano del girone d'andata oggi ho rivisto quella voglia di combattere quella voglia di essere attenti quella voglia di essere protagonisti nel misurarci contro avversari più bravi quindi stimoli nervosi positivi concentrazione è chiaro che ripeto non rivado indietro a ripercorrere il mese delle grandi difficoltà che ha vissuto l'avezzano perché il tutto è partito dalla partita con il Porto d'Ascoli con mister Scorsini a letto con il Covid con Zanonna che prende tre giornate con Bittaglia che si fa male a un occhio e con una serie incredibili di infortuni e di problematiche che hanno ridotto all'osso questa rosa penso che oggi i nostri tifosi ci hanno dato ancora una volta una grande mano ci sono stati vicini ci sono sempre vicini e questo è un punto di ripartenza che dedichiamo soprattutto a loro quattro vittorie all'obiettivo minimo? la salvezza la salvezza non so che tipo di punteggio ci porterà io dico che basta guardare i risultati di oggi quando avevo detto che non mi sbagliavo alla fine del girone andata quando avevo detto sarà un girone di ritorno durissimo sarà un girone di ritorno difficilissimo perché tutti si sono rinforzati e basta guardare oggi il Montegiorgio che va a vincere a Chieti il Termoli che va a vincere a Porto d'Ascoli la Roma City che fa la terza vittoria consecutiva e batte la Vastese bisogna battagliare questo è il verbo per arrivare alla salvezza per arrivare all'obiettivo dichiarato dell'Avezzano grazie a tutti